Vi piacerebbe avere una barca? Certo, sarebbe bello che fosse molto comoda, con tanto spazio all'interno e all'esterno. Certo, dovrebbe essere molto grande, avere motori molto potenti e consumare e costare parecchio, a meno che… un troller, 43 piedi, barca europea dell'anno. Bisognerebbe provarla. Questo è uno dei modelli più moderni, progettato e costruito con filosofie attuali, come l'efficienza energetica, il risparmio di carburante, l'ecosostenibilità. Lo hanno chiamato Eco-Troller 43 Long Distance perché è ideale per chi vuole compiere lunghe crociere. Ma nel nome c'è anche il prefisso Eco, proprio a indicare l'economicità dei consumi. Ad esempio, hanno utilizzato due motori da 330 CV. La stessa potenza che troviamo spesso su un gommone o su un motoscafo di 10 metri. Basteranno per questo 40 treppiedi con Flying Bridge? Cominciamo proprio da questa domanda. è abbastanza leggera, ha un dislocamento di 12 tonnellate. A pieno carico arriva a 16 tonnellate e ora ci troviamo in una condizione intermedia. Navigare è stupendo perché ci permette di portare con noi le nostre cose, le persone più care, in questo caso la nostra casa. Ma ci sono due limiti. Il primo è il tempo. Quando siamo in barca vorremmo che certi momenti non avessero mai fine. E l'altro problema è il consumo di carburante. Ma su questo tema dobbiamo indagare. Se scegliamo di navigare a questa velocità, sette nodi e mezzo, ci possiamo godere la barca in tutti i suoi aspetti. Possiamo rilassarci, prendere il sole, leggere un libro, anche cucinare e pranzare. E a questa andatura, ripeto, sette nodi e mezzo, il consumo di carburante è di 15 litri ora. In pratica consumiamo 2 litri per miglio su una barca così grande. E' pazzesco. Allora, supponiamo di partire da qui, da San Giorgio di Nogaro, in Friuli, Venezia, Giulia, la parte più a nord dell'Adriatico. Poi di costeggiare la Croazia e poi magari di piegare verso il Gargano, scoprire tutte le bellezze della Puglia. Beh, per arrivare fino in fondo, fino a Santa Maria di Leuca, avremmo percorso circa 400 miglia. Se navigassimo un paio di ore ogni mattina e magari un paio di ore ogni pomeriggio, totale 4 ore al giorno, a questa andatura, in 12 giorni avremmo fatto una crociera stupenda. Volete sapere quanto sarebbe costata? Avremmo consumato circa 800 litri di gasolio, che al costo attuale sono più o meno 1200 euro. Non molto per una crociera di 6 persone. Sì, perché questa barca potete averla anche con tre cabine, sei posti letto. Già, ma la barca quanto costa? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare prima due valutazioni. La prima è che uno yacht di un cantiere affermato avrà sempre un buon valore sul mercato. E l'altra è il rapporto qualità-prezzo. E Cranky su questo tema è molto avanti. Come abbiamo potuto verificare visitando uno dei quattro stabilimenti di produzione, esattamente quello di Rogolo. Cosa rende speciale questo cantiere? Forse non tutti sanno che la barca è un prodotto essenzialmente artigianale, cioè realizzato quasi completamente dalle mani dell'uomo. Questo aspetto così romantico si adatta perfettamente alla costruzione di esemplari esclusivi, a pezzi unici, costosissimi. Ma se volessimo un'ottima barca, a un ottimo prezzo, c'è solo una soluzione che si chiama industrializzazione. Negli anni di massima produttività, Cranky è arrivato a sfornare uno yacht nuovo ogni due ore e 42 minuti. Nei quattro stabilimenti di produzione regna un'organizzazione assoluta. Attrezzature, componenti e uomini realizzano un ciclo produttivo la cui precisione è paragonabile a quella di un cronografo svizzero. Non a caso la Svizzera è proprio lì, dietro quelle montagne. Hanno speso enormi risorse economiche per arrivare a questo risultato. Hanno realizzato stabilimenti di produzione enormi e perfetti. Grazie all'elevata industrializzazione, il prezzo di questo yacht, dell'Eco-Troller 43 Long Distance, è molto vantaggioso. 400.000 euro più IVA, più o meno. Volete vedere cosa vi danno per questa somma? Beh, diamo uno sguardo alla coperta e agli interni. Cominciamo dalla terrazza, che è fornita di una living per sei persone, mobile cucina e area relax. Sulla Tuga c'è spazio per i pannelli solari. A Prua, oltre al tradizionale materassino prendisole, piuttosto largo e con appoggiatesta regolabili, c'è un divanetto che pare fatto apposta per momenti romantici. Nel pozzetto l'arredamento è asimmetrico e questa è la soluzione giusta per organizzare al meglio lo spazio. La scala è di rimpetto alla discesa in acqua e così il divano è più grande. Il salone è arredato con salotto e cucina. L'equipaggiamento è ideale per quattro persone, al massimo per sei. Il parabrezza è un unico cristallo e tutto attorno ci sono ampie finestre, perché la barca deve dare costantemente la sensazione di essere a contatto con l'ambiente esterno. Tutto l'arredamento e tutti gli impianti sono montati in maniera precisa, perfetta. Come avete visto, l'arredamento è montato in maniera perfetta e così pure gli impianti, ma torniamo ancora per un attimo in cantiere. La coperta e lo scafo vengono allestiti separatamente, così i tecnici lavorano con maggiore comodità e quindi con più precisione. Poi si procede all'accoppiamento dei due gusci. È un'operazione delicata, ma sembra un gioco per gli addetti cranchi. Sotto coperta sono possibili tre soluzioni, con due suite matrimoniali e due bagni, oppure con tre cabine o con due cabine e un grande vano di stivaggio, per chi usa la barca proprio come una casa al mare. La cabina a centro scafo ha un layout ideale. C'è anche un divano accanto alla finestratura, una zona beauty perfetta e ampi spazi di stivaggio. L'altra matrimoniale si trova a prua. È comoda, larga, alta, ariosa e siccome ha il bagno en suite, per definizione è la cabina armatoriale. Il secondo bagno è utilizzato come bagno giorno e serve la seconda cabina. I mobili hanno bordi rialzati, indispensabile in barca per non far cadere gli oggetti, eppure sono piuttosto rari. Questo scafo viene proposto con i motori D4, alla potenza di 260 o 300 cavalli, oppure con i D6, come in questo caso, su questo modello che stiamo provando. I D6 sono motori molto più grandi, potenti, arrivano al massimo a 435 cavalli, ma quando vengono depotenziati a 330 cavalli, come su questa barca, beh, perdono un po' di efficienza, ma diventano eterni. Bene, fino adesso abbiamo visto tutti i vantaggi di questo trawler e adesso facciamo tutto quello che non si fa con un trawler. Giù la manetta, tutta, in un sol colpo. Scazza incredibilmente! Sembra una barca con il fuoribordo! Prende velocità! Adesso lo lancio contro le onde. E anche contro il vento. Spendiamo nella peggiore condizione che velocità fa. Abbiamo anche il pieno d'acqua e mezzo serbatoio del carburante. Oh, 22 nodi e mezzo! E in pirata cosa succede? Giù tutto il timone. Beh, la spandata, anche se ha le propulsioni IPS, non è eccessiva. Molto confortevole. Si inclina lateralmente pochissimo. Questa è la spandata. La proviamo però anche dall'altra parte. Dovrebbe essere perfettamente simmetrica. E teniamo sempre la manetta al massimo. Non c'è che dire. È confortevolissima, anche per chi non è abituato al mare, anche per chi non è abituato a stare su un flying bridge così in alto, ma non si inclina per nulla. Fantastica! Mi piace proprio. I motori sono al massimo. 3.600 giri minuto. Eccoli qua. Guardate la velocità. A favore di vento superiamo anche i 23 nodi. 23 nodi e mezzo. Con due motori da 330 cavalli su un 43 piedi con flying bridge grande e largo come questo. Il rumore è basso e soprattutto il vento. I motori non li sento. Secondo me è una barca intelligente perché consuma poco rispetto alle sue dimensioni e ha da offrire molto per il suo prezzo. Insomma, è una barca ideale per chi non ha mai pensato di avere una barca. A San Giorgio di Nogaro in Friuli tra Trieste e Venezia c'è il Marine Test Center Italo Monzino dove si possono provare tutte le imbarcazioni cranchi, 365 giorni l'anno, anche nelle festività. Nella nostra prova abbiamo toccato una velocità massima di 22 nodi e mezzo e una velocità di crociera di 17 nodi e mezzo. Sono proprio soddisfatto di questo troller. E non sono il solo perché l'hanno eletta Barcha Europea dell'Anno nel 2015. Grazie a tutti.